Oggi è stata una giornata importante per quanto riguarda le infrastrutture, siamo a Genova, il convegno della Cisle è venuta forte la richiesta di sbloccare tutte le infrastrutture, dal Terzo Valico fino anche alla TAV, la TAV di Firenze, perché crediamo che lo sviluppo passa anche dalle infrastrutture, il lavoro, la crescita passa dalle infrastrutture e quindi noi che siamo dalla Toscana vogliamo che in qualche maniera la TAV, il sottotraverso di Firenze possa ripartire e quindi liberare i binari di superficie per il trasporto pubblico locale e nello stesso tempo vogliamo anche mettere in sicurezza l'aeroporto di Firenze con la nuova pista perpendicolare parallela all'autostrada, che è un importante investimento che creerà tantissimi posti di lavoro non solo in maniera diretta ma anche in diretta sul turismo e anche sui negozi, sull'economia della città e di tutta la Toscana, quindi noi crediamo che lo sblocco delle infrastrutture diventa indispensabile per il rilancio del paese e per far crescere la nostra economia.